Guardate che bello questo nuovo intonaco che stiamo dando su questo bellissimo palazzo storico guardate che bello lì intonaco strutturale prima mano di zaffo questo invece intonaco 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 risanante risanante ecco qua guardate che bellezza questo prima mano intonaco risanante a terra dove lì abbiamo sempre previsto uno spessore che poi verrà tolto dove poi riempiremo sempre quella nostra boiaca pozzolanica in modo da evitare la risalita dell'acqua dall'esterno verso il muro verso l'intonaco guardate che bello adesso si sta asciugando l'abbiamo dato oggi mentre sopra qui abbiamo tutta la parte di intonaco strutturale per in zaffo perciò prima mano seconda mano poi grattiamo via il superfluo perché tutta superficie regolare e poi cominceremo con la stabilitura rete d'armatura in fibra di vetro e poi rasatura per dare ovviamente nuova vita a questo bellissimo palazzo storico qui a Verona che meraviglia col vento che piove anche oggi ok ciao a tutti grazie